Sono 23 i calciatori del Trapani che Fabrizio Castori ha messo in campo dalla ripresa del campionato finora. In sei giornate il tecnico Granata ha dato quindi ampio spazio agli uomini a disposizione, una scelta preventivabile anche in considerazione del poco recupero tra una gara e l'altra. Il calendario stretto ed un periodo di fermo di quasi tre mesi può creare delle grosse difficoltà dal punto di vista atletico. Ecco quindi che Fabrizio Castori nei momenti più opportuni e ha inserito quasi tutti i giocatori a disposizione. I risultati stanno dando ragione alle scelte del tecnico marchigiano. Nelle sei gare post lockdown il Trapani ha conquistato tre vittorie e altrettanti pareggi. Un bottino che ha avvicinato la formazione trapanese alla zona play out distante ormai solamente tre punti. Mancano quattro giornate al termine del campionato di Serie B. I Granata venerdì saranno in trasferta a Pisa prima dei due scontri diretti contro Pescara in casa e Perugia in trasferta. Quindi l'ultima sfida col Crotone all'ultima giornata. Gare in cui sarà determinante l'apporto di tutti. Proprio perché tutti sono indispensabili. Un pensiero espresso anche da Fabrizio Castori che ascoltiamo. Il campionato di Serie B è un campionato lungo e difficile. Le partite sono tante e siccome c'è un calendario molto stretto i giocatori vanno sfruttati tutti perché molte partite travicinare spesso ti impediscono ai ragazzi un recupero totale. Io per questo non ho mai fatto tanti lamenti se manca uno o manca l'altro perché quando c'è il campionato so benissimo com'è e le essenze di qualcuno sono opportunità per qualcun altro. Grazie.